Iscriviti al canale! Allora, andiamo a vedere gli aggiornamenti. Gli aggiornamenti a BG, sono stati fatti un bel po' di cambiamenti. Commento gli sviluppatori degli aggiornamenti della battaglia. Questo è il primo aggiornamento post-spell, ok? Quindi è importante perché mette, diciamo, dei punti su come sono andate le spell. Commento gli sviluppatori. Nel complesso, il modo in cui queste magie sono state accolte ci soddisfa molto. E che soddisfa anche me. Secondo me sono... sono... sono state fighe. Il meta sta abbastanza bene. E nel momento ci stiamo occupando di una serie più ampia di modifiche leggere per ridimensionare alcune carte hyperperformanti. E dare un aiuto in più ai cinghiali, murlock e non morti. Mi sembra che sono sul pezzo. Sanno quali sono i tag che fanno schifo. Continueremo a monitorare e faremo tutte le modifiche necessarie nel nuovo anno. Title 1. Ogni terza magia che acquisti costa 1 in meno. Prima costava 0. Viene ha fatto un botto, Tetelan. Un botto. E devo dire che questo nerf non mi piace. Cioè... Lo rende un eroe... Un po'... Cioè... Che fa poco. Magari non brutto, ma che fa pochino. Poi, Lich Basial. Big nerf. Lich Basial è clamoroso, sto nerf a Lich Basial. Ora, l'aeropora costa 2. È clamoroso questo cambio, eh. Ora, dopo lo vedrete, gli portano l'armatura da 6, che aveva prima, o 5 addirittura, a 15. Quindi gli danno anche 10 punti vita in più. Però il nerf è gigantesco per Lich Basial. Il pesce, quindi in Zot, cambia... In realtà non cambia niente. Cioè nel senso che i Detetro che lui prende, li prende solo in combattimento. Non più... Cioè se tu facevi la combo, il problema del pesce è che facevi la combo falange e pesce, con Lich. E il pesce ogni turno prendeva l'HP di falange. Cioè il Detetro di falange. E ne prendeva una roba ogni turno. E quindi questa cosa l'hanno cambiata. Va bene, non cambia gli effetti in realtà per tutte le altre build. Poi, cambi di armatura. Murillo Colm, se i Re del Fruito hanno 8 armature. Re del Fruito in modo particolare ne è arrivato tipo 13. È stato portato 8. Xirella viene nerfata. E è capitato che Agra viene nerfata un bel po'. Perché lui ne aveva 18. E poi invece, baffano. Taitelan, che abbiamo visto è stato nerfato, gli hanno aumentato la armatura. Lich Basian e anche Putricidio gli aumentano la armatura. Questa aveva 15, ne hanno dato 3 punti vita. Abbastanza incide, eh. 3 punti vita. Poi, nerf. Nerf alle carte. Vedrete tanti nerf. Vedrete abbastanza discretamente nerf. Traficante di nerf. Partiamo subito con un nerf che secondo me è grosso. Traficante di nerf passa da 2.5 a 2.3. È un nerf gigantesco. Gigantesco. Ce n'era bisogno? Non lo so. E questo nerf forse è troppo, troppo grande. Per questa carta, eh. Perché portare la 2.3 la rende un pezzo davvero inutile. Cioè, almeno prima magari la prendevi anche se non avevi ideali, capito? Perché comunque aveva un body. Adesso il body è veramente osceno. Quindi, eh. Traficante di diagheti ne ha fatta in modo importante. Forse troppo. Il bronzio viene portato 1.1. Che ci sta. Ha senso. Nerf for questa carta. Non incide tantissimo. Però un pochino può incidere. Il deacofatu viene portato 2.4. Da 2.5. Questo forse non lo condivido. Perché non mi sembrava una carta forte. Non era il deacofatu forte. Era forte tutto. Cioè, semmai era forte il resto. Non lui. Quindi, nerf for questa carta su me è troppo esagerato. Onestamente. L'avrei lasciato lì. Povero deacofatu. Poi. Ah, e non prende più attacco lui. Oh. Ma l'arresto ne ha fatto gigantesco. No, fermi. Infatti mi ricordavo che prendeva buff ai deaghi. Questo è diventato un bidone nucleare, sta carta. Osceno. Osceno del deacofatu, ragazzi. Non lo giocherà più nessuno. Specialista del appiccamento. Viene portato da taverna 5.2.2. A taverna 6.8.8. Questo è un cambio che non mi dispiace. Perché comunque è vero che portare la taverna 6 è un nerf alla carta. Però gli hanno dato un senso a taverna 6 portando la 8.8. Quindi, secondo me, rimane una carta di valore. giocabile. Quindi, ci sta. Ci sta questo cambio. Lo capisco. Lo sporofago viene portato da taverna 4. Viene buffato 5.1. Ma viene portato da taverna 4. Giusto anche questo. Secondo me è giusto portarlo da taverna 4. Lo scarabèo, invece, viene sceso da taverna 3. L'effetto, invece, che dare più 4 più 4 da più 3 più 3. Diciamo se ne trovano di più. Così. Cambia poco, ma se ne trovano di più. Di questi scarabèi. La navigatrice. Questo è un grossissimo nerf. L'avevo anche fiutato. La navigatrice passa da dopo aver compiato 3 carte a dopo aver compiato 4 carte. Dico la mia sulla navigatrice adesso, senza averla giocata. Secondo me non si gioca più. Ho l'impressione che sia molto difficile da giocare. Molto. Anche nel momento in cui tu vai in infinito, ti conviene avere una peggy, piuttosto che questa. Il carrello viene portato vendita 4. Viene dato uno di difesa in più. Ci sta. Ci sta per il carrello. Poi te lo vendete a 4. Attivarlo due volte adesso sarà molto complicato. Però in realtà ci sta. Cioè, nel senso, questo è un cambiamento che era giusto. Era nell'aria, lo sapevamo. Ed è giusto che l'abbiano fatto. Sprigionatore infligge 4 o danni a... Diventa 4 o 1 e fa 4 o danni. Sempre questa regola di Blizzard che mette l'attacco uguale all'effetto. E non capisco perché lo faccia. Cioè, perché la gente pensa che non sa... Cioè, pensa che... Cioè, non capisco. Non capisco. Non capisco perché lo fa. Perché gli baffia... Gli toglie anche l'attacco. Non credo che ce ne fosse così troppo bisogno, onestamente. Cioè, Sprigionatore di fuoco una carta a tempo. E se tu lo nerfi... Rischia di diventare inutile. Cioè, capito? La build bombette... Secondo me non era... Non era giocabile prima. Funzionava una volta su mille. E adesso è... Muerto. Ora è morta. Quindi... Non... Cioè, non lo so. Non credo ce ne fosse bisogno, ecco, di nerfare lo Sprigionatore. L'uccello canterino diventa 2 e 4. Giusto. Giusto. Fatemi dire che 0 e 5 era proprio una tristezza. Per l'uccello canterino. Il possente New Zhao viene portato a 7 e 6. Giusto. Molto giusto. Il commerciante del bazar... Viene portato a 2 e 4. Secondo me non cambia un gatto. Questa carta tanto tu lo compravi. Compravi una spell e poi la vendevi. Portarlo a 2 e 4 è un cambian... Secondo me non cambia niente. Non cambia niente. È un nerf quasi inutile. Il percursionista invece... Giustissimo. È stato riportato a Taverna 5. Questo Taverna 4 ti permetteva di scalare con i demoni stando a Taverna 4. Quindi... Quindi è giusto averlo portato a Taverna 5. Rimane la carta ovviamente forte ma... Ma lo devi andare a prendere lassù. Giusto così. Il Deone. Attenzione. Finalmente il Deone è stato buffato. Perché questo è... Da quando è uscito è una carta orribile. E non l'avranno mai toccato. Ora viene portato 4 o 5. Quindi più piccolo. Questo è un danno importante. Perché gli ha dato meno 2 e meno 2. Però... Adesso i servitori prendono più 2 e più 1 per ogni magnetismo. E questo è un buff abbastanza... Direi grosso. Vedremo se sarà giocato. Però sicuramente adesso è una carta un po'... Un po' più vera. Ecco. Lo zampalungo viene portato 1 o 5. Questo è un bel buff. Questo è un discretissimo buff. Perché... Perché è discreto. Tutti 1 o 1 o 5. Non è male. Il Murlock che buffa con le statistiche in mano. Viene portato a Taverna 3. Innerfato. Secondo me questa carta non è mai riuscita a essere efficiente. Da quando è uscita. E... E non lo è adesso. Cioè è proprio una carta che secondo me non funziona. Non è sinergica con niente. È sinergica un po' con le naga. Però se tu stai andando naga vuoi le naga. Cioè... Non... Non... No. È una carta che no. Non cambia niente. Gorgoglio viene dato più 3 più 3 invece che più 2 più 3. Un leggero buff al Battle Crime mi sembra corretto. Il jazzista. Questo... Attenzione. Perché ora passiamo ai... Ai cinghiali. E i cinghiali sono stati cambiati tanto. In primis con... Con... Il cambiamento più importante. Perché jazzista che parte tra le Anna 2. Cambia un sacco. Ne trovi molti di più. Se ne trovano molti di più. Si triplano molto più facilmente. E... Quindi... Quindi questo cambia molto. Questa è una carta che cambia molto gli equilibri. Perciò teniamolo d'occhio. Perché jazzista... Adesso... È... È un sacco importante. Poi... Lo Sparge Vernice... Non gli viene cambiato l'effetto. Secondo me andava cambiato l'effetto di Sparge Vernice. Diventa 3 Anna 3. Viene affatto le statistiche. Viene portato 3 Anna 3. Insomma questa carta è brutta nel concept. Non tanto nel... Nell'effetto. È brutta e basta. Perché tu quando giochi cinghiali... Non compieghi. Non compri magie. Della Locanda. È quello il fatto. Cioè... È un po' antisinergico. Comprare le magie della Locanda quando stai inando cinghiali. Eogug viene portato a Vanna 4. Questo cambia un bel po'. Guardate questo è un grande buff. Eogug è una carta bruttina. Però... Attenzione. Se tu hai buffato tante le gemme. Con il fatto... Il grosso buff a lui. Allora Eogug potrebbe essere forte. Eogug poi è portato a Vanna 4. È... È intrigante. È molto intrigante. Il conducente senza freni viene portato 4 o 5 da 5-5. Ma... Ti dà 4 monete d'oro. Questo è un discreto buff. Discretissimo buff. Eh... Rischi di fare delle poicherie col conducente. Quindi... Eh... Mi piace. Mi piace molto. Il modo in cui è stato buffato il conducente. E... E... Juan viene portato a Vendetta 2. Eh... Questo lo sapevamo. La build... Eh... Juan... Con il... Il tizio che riprende Divine Shield... Con Taunt... Era la build più... Mh... Meno divertente da affrontare. Perché... Ci sono pochi counter al momento. Per quella build lì. E... E... E quindi è giusto che l'abbiamo ne affatto. Ora da 2 gemme. Non più una. Quindi da 2 o 4 gemme. Quindi... Comunque... Eh... È una carta che rimane giocabile. È anche stato portato tra i 10. Ma... Ma... Almeno non funziona più in combo con il tipo di Divine Shield. Che riprende Divine Shield. Cioè può sempre funzionare. Ma quella build in cui con un pezzo di trea di tutta la board. Eh... Non funziona più. E secondo me è corretto. Quella build lì... Era un po' sconveniente da giocare. Anche perché c'erano poche counter. Dopo che hanno tolto gli eroi. Per quella build lì... La potevi counterare solo con la 3-4 che toglie Taunt. Ad esempio. E neanche del tutto. Ehm... Oppure con... Un Wind Fury molto grosso. Però... Capite che... Non c'erano tanti counter per quella build. E secondo me... È... È giusto che abbia non ne affatto quella build lì. Comunque questa è la carta che rimane giocata. Improvvisatrice di coralli passa 1-1. Vi dirò che sono d'accordo. Perché... Sono d'accordo. Effettivamente questa carta 1-2... Cioè... Sembra un nerf piccolo. Ma un nerf grosso. Il Berulica Morte viene portato 1-4. Va bene. Ci sta. Ci sta. Discreto buff. Ehm... Cos'è sta roba? Gente della mun... Ah no. Ok. È sbagliato questo. È sbagliata la... La... La cosa. C'è... Viene portato 5-2. Quello che dà Reborn. Sbagliata l'immagine. Ok. Ehm... Leggero nerf. Il buff importante per gli Undead. È questo qua. Perché Morores... Ehm... Viene portato... Viene... Adesso da più 2-6 agli Undead. Quando tu cominci ad avere Morores con Lich... Comincia a dare delle stats... A direi che rosse. Quindi... Quindi ci sta. Quindi adesso è un pezzo che... Che bisogna vedere. Quanto sia viabile. Se è troppo forte, se è troppo scarso. Devo provarlo. Ma sicuramente adesso può funzionare la Build Undead con Morores più Lich. Anche perché anche la Lich è stata baffata. Dopo lo vedremo ma... È stata baffata di statistiche. E... Questo... Questo secondo me è un buff abbastanza grosso. Cioè sicuramente grosso. Sicuramente grosso. Il decoratore di tombe. Diventa 4-3. Non più 3-4. Ma prende più 5-5. L'ho detto che questa carta faceva schifo. L'avevo detto ieri che faceva schifo sta carta. È stata baffata. Bene. Continua a non piacermi. Ma bene. L'Archiliccio come dicevo è stato baffato. 10-8. Giusto? Belle, belle statistiche. 10-8 eh. 10-8 cominciano ad avere delle statistiche abbastanza importanti. E poi la falange. Eh... Se continua così la falange diventerà 1-1. Piano piano diventerà 1-1. Sempre la solita regola di Blizzard. Che se l'effetto da più 4-4 le stats devono essere 4-4. Per non confondere. C'era il bisogno di nerf a falange. Forse sì. Forse sì. D'altronde falange ha il fatto che... E' che ci vuoi fare tante cose. Ci vuoi fare tante cose. Puoi fare la build con... C'hai l'alpiero. C'hai la litch. Gli puoi dare Divine Shield. La puoi ribornare. Quindi... Ehm... Falange rimane un pezzo che... Che comunque anche così... Che è stata nerfata. E' nerfata. Super mega nerfata. E' ancora un pezzo buono. E' ancora un pezzo giocabile. Poi... Cambiamenti a luce della lanterna. E' stata baffata. Mi sembra corretto. Effettivamente faceva troppo poco per il costo. Prima. Il bastone dell'arricchimento è stato nerfato. Sono d'accordo di aver nerfato questo. Perché non hanno nerfato i demoni. I demoni praticamente li hanno nerfati poco. Quindi secondo me ci sta nerfare questa caretta. Il vigore volubile da più 6-6 passata per da 4. Non cambia molto. Semplicemente hanno messo... Le spell di taverna 4 è un po'... Cioè... Hanno messo una spell a costo 1 anche a taverna 4. Il vigore che giante è passato a costo 3. Costo 3 secondo me è tanto eh. Per questa caretta. Onestamente secondo me potrebbe starci anche a taverna 2. L'arimatura di scorta passa 3 gold. Mi sembra sacchero santo. Assolutamente. Chi trova un amico viene portato a taverna a costo 4. E mi sembra anche questo molto giusto. E l'altra questione è che... Turbina Bot non te lo dà più. Il Turbina Bot è quello che copia tutti i dettriattol. Non te lo dà più. Quindi non andatelo a cercare. Mi raccomando. E... E poi Dono Sacro viene portato a costo 6. Giusto? Eh... Nel late game spesso questa è una caretta super good. Sarà... Lo sarà ancora se generi magie. Però... Eh... Viene portato a taverna 6. In più gli ultimi cambiamenti. È stato tolto il navigatore Vilpina che è il murilock a 4.4. Che... Eh... Dava più uno più uno. Assolutamente giusto. Viene rimesso il veggente luce fredda. Eh... Che è la 2.3 che baffa il murilock. Massa... Baffa tutti i murilock in salute. E viene portato a taverna 2. Il perdente irritato che è... L'undead taverna 3. La 1.4 che baffa gli undead. Secondo il suo attacco. Secondo la tua taverna. Che è una carta tempo per gli undead che ci può stare. E soprattutto viene... Eh... Viene inserito il generale Deakizat. Questo è un... È un buff per i Deaghi. Soprattutto nella versione Calegos. Molto grande. Molto molto grande. Anche perché dovete considerare che hanno tenuto... Adesso c'è sia lui. Che dà la 2.1 deaghetto. Che è quello del... Che si attiva a fine turno. Quindi ci sono due modi per prendere le ala calde. Quindi... Eh... Si possono fare discrete triple. Eh... Patch... Secondo me figa. Hanno sistemato un po'. Onestamente. Ora poi io l'andrò a giocare. Vedo gli undead che li hanno baffati bene. In modo... Cioè... In modo decisivo. Hanno secondo me baffato i cinghiali in modo decisivo. Anche se io avrei voluto vedere un pezzo taverna 6. Nuovo. Perché Child Guard... Secondo me continua ad essere un pezzo inutile. I Murloc... Non mi sembra che li abbiano baffati in modo significativo. Credo che siano ancora ingiocabili. Eh... Altre cose. I nerf ai demoni ci stanno. Non troppo grandi. E... Nerf di qua. Nerf di là. Hanno nerf fatto un po' le caratteri con vendetta. L'altro nerf che non mi piace è questo qui. Perché... Secondo me la rende una carta ingiocabile. Completamente ingiocabile. Però... Mmm... Ora andiamo a vedere. Spero che tutto ciò vi sia piaciuto. Mettete like, popolo di Youtube. Ah... Qui. Qui. Mettete like. Qua sotto. Bye. 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 Grazie.